Covid 2019, vediamo nel comparto alberghiero qual è la situazione sul nostro territorio. Ne parliamo con Federico Delgrosso, direttore dell'Hotel Palace di Battipaglia. Siamo arrivati al limite, insomma. Mi mette paura il limite che abbiamo raggiunto perché ho paura che un'attività che sta qui da 40 anni e che è giunta la terza generazione possa giungere alla fine, insomma. La notte non ci dormo. Sappiamo di numerose iniziative che hai messo in atto. Vogliamo parlare di qualcuna in particolare? Abbiamo pensato a varie attività. Una di queste, quella che forse ha riscosso più successo, è stato l'Hospitality Bond. C'è un voucher pensato per le persone che vogliono prenotare sulla lunga distanza e su questo, sul valore che loro acquistano, viene riconosciuto un sovrapprezzo. Per esempio, il nostro sovrapprezzo era il 15%, quindi il turista prende un bond di 100 euro, noi riconosciamo 115 euro sul soggiorno che lui decide entro un anno a suo piacere. Insomma, è un sovrapprezzo, è proprio un bond. I nostri bond però hanno una specificità, anzi due specificità. Uno è il riconoscimento e la certificazione che ci dà la Savino Solution, che è un ente certificatore europeo, neanche a fare la posta di Salerno. E poi hanno uno scopo sociale, e cioè tutti i ricavi determinati dai bond serviranno esclusivamente al mantenimento della nostra occupazione, cioè serviranno a non licenziare delle persone che lavorano con noi da 30 anni e sono sempre le stesse.